Buongiorno, io sono Claudio Marenco dell'azienda Marenco Aldo di Dogliani. La nostra azienda nasce alla fine del 1950, inizio con mio padre e mio nonno, azienda tutto campo, poi all'inizio degli anni 90 ci siamo concentrati di più sul vino e sul biologico. Nel 1991 abbiamo iniziato la nostra esperienza nel biologico avendo per il primo anno la certificazione del biologico. Dopo ormai 25 anni continuiamo col biologico, abbiamo ampliato la nostra gamma di prodotti, la nostra azienda adesso conta 10 ettari di terreno e siamo presenti sul territorio nazionale e internazionale con vari vini tra cui il Dogliani di OCG, il Barbera del nostro territorio, il Nebbiolo e altri vini tipici del nostro territorio. Grazie, cosa ci fa sentire adesso? Del nostro territorio ovviamente di Dogliani il più tipico è il Dogliani di OCG, l'uva e dolcetto, assaggeremo in questo momento il Parla Pa che è un Dogliani superiore del 2016 affinato in botte grande. E cosa vuol dire Parla Pa? Parla Pa è un'esclamazione in piemontese, detta in piemontese che vuol dire, è un'esclamazione di piacere, come dire parbleu in francese, di stupore e piacere. Per bacco dire. Per bacco, esatto, esatto, esatto. Oh my God!